Allora, no, allora... Allora, no, allora... Allora, io affondo qua, non cammino bene, sembro nota, lo dico, con tutta la buona volontà. Allora, qua... Lei viene da là, la facciamo camminare... Volevo delle quiz, guarda... Va bene... Volevo delle quiz, guarda... Da qua... Ma non mi sembra... Ma non mi sembra... Non fate voi... Qua, 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 però vieni... Almeno a quest'era... No, in... C'era una distanza... C'era una distanza... Precedi... Passi da lei... Quinta di questa camera... E metti qua... Perfetto... Se a te ti piace uguale... Non fa male voi... Non... È solo l'arrivo però... Poi dorsi... Tu parti da qua... Tu parti quanto si taglia da mangiare gli occhi... Io non lo vedo... Si, che metti qua... Ma aggiungi le due signore, che incanta... Come vuoi tu... Ma quando è... Ecco... 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 Come ti sei permesso di presentarmi la mia cosa? Non mi ricordavo che sei in ospitale, non mi ricorda. E' sempre questo un modo di accogliere l'impiata di un suo socio raffare. Non importa perché sei venuta, adesso tu ti inventi una scusa immediatamente, altrimenti ti sbatto fuori a calci. Posso dire che per tanti ospiti hai tanti meno da più delle fari che venire a portare di scatola a me? Perché non sei un buon uomo che semmeno si può confondere lei? Perché prima voglio sparazzarmi in te, brutta. Guarda che se non mi lascia mi metto un lato. Uno non la conto ti pare, ma da qui te ne vai, hai capito? No, finalmente qualcuno che ha ragione. Sì, 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 sì. Sì, 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 Occhio semplice. 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 Occhio semplice.